Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Su trovavolantini.it le offerte della tua città. A portata di un click. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Ehi! Lo sai che a 30.000 iscritti pianteremo un nuovo albero? Aiutaci anche tu! Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurostin! Non manca tanto, dai! Ti piace MDI? Continua a seguirci e vedrai l'anteprima prima di tutti! Ehi! Ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino leader! Non perderti l'anteprima! Ehi! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.